Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop, una figura alta circa 62 cm in scala 1 a 3, edizione De Agostini, uscita numero 16. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che si ripete ad ogni collezione che andrete a fare. Adesso chi ha desiderio di dare lettura ai testi oltre che guardare le immagini può farlo. Intanto io doverosamente e volutamente ringrazio tutti voi i miei iscritti che mi visualizzate e che continuate a far sì che io possa essere ancora qui a condividere con voi questa mia passione. Grazie ragazzi. Alle persone invece che ancora non si sono iscritte ma che magari hanno desiderio di farlo, bene, vi esorto a farlo ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla mia playlist dove potrete trovare altri modelli di vari generi. Qui intanto stiamo guardando le fasi del montaggio. Devo dire che è fatto molto bene questo cyborg. Se qualcuno di voi ha piacere di farsi montare il modello da me, mi può contattare in privato. Grazie. Se provate a leggere almeno un fascicolo vi rendete conto di quanto siano ricche certe collezioni, quali questa, dove potrete trovare non soltanto la storia di Robocop o quello che si racconta degli episodi che abbiamo già visto in passato, ma delle cose proprio che riguardano l'attualità, come la biomeccanica. Guardate, leggete, addio coda le casse. In certi posti si usano già i robot con il viso in lattice che rispondono alle informazioni, che fanno addirittura dei telegiornali. Io vi sto soltanto raccontando. Sono stupito, tanto entusiasta non lo sono. Però questo è un discorso che insomma sarebbe troppo lungo e articolato. Andiamo a vedere cosa troviamo in questa uscita. Un polpaccio sinistro. Tutto in metallo. Lo abbiamo già visto dall'unboxing. Due serie di viti. FM, RM da avvitare nel metallo. Io mi sono già creato i filetti. Adesso vi farò vedere per cercare di fare i video meno lunghi possibili. Ho usato un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante, vaselina, grasso, olio, quello che volete voi. Sono andato a crearmi il primo filetto qui, con la vite FM. e poi sono andato... Ah no, chiedo scusa, ho sbagliato. La vite FM l'ho usata qui, questa. Mentre invece qui... Aspettate ragazzi perché... Non so se è il bello della diretta ma sicuramente ne avrei fatto anche a meno di fare questi errori. Abbiate pazienza. Ricominciamo da capo, ok? Va bene, dai. Allora, qui ho usato la vite RM. Ecco, adesso è corretto. RM. Mentre qui ho usato la vite FM. Ecco qui. Bene, queste sono in più. Le mettiamo via. e procediamo al montaggio. Mettiamo un po' di lubrificante, se volete lo fate, altrimenti non lo fate. Io lo faccio perché stiamo parlando di due elementi in metallo. Questo è metallo, questo è metallo. Diversamente non l'avrei fatto. ed ecco qui. Basta così. Inserisco questa con i denti rivolti chiaramente verso gli altri. ecco qui. Perfetto. Poi prendo la molla. Stavo riprendendo. Vi faccio rivedere, dai. Ho messo del grasso di vaselina qui. ecco. Molla. Vite RM. La puntiamo senza evitarla. Controlliamo qua dentro che entri perfettamente nel suo scasso. Eccola qui. E poi possiamo avvitare fino in fondo. Perfetto. Stringete pure fino in fondo ma senza esagerare per evitare rotture. Perfetto. Quello che vi consiglio, una volta stretta questa vite, è che non lasciate troppo gioco morbido qui al piede della caviglia, questa sfera. altrimenti svitate qua sotto e rendetelo più rigido perché poi alla fine Robocop sarà davvero pesante. e poi non vi sta su bene. Andiamo adesso a rimuovere la vite FM. Poi prima di salutarci alla fine di questo montaggio vado a prendere tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, il 16, e poi ci salutiamo. Ecco qui. Così. Accertatevi che sia perfettamente entrato il perno qui. altrimenti rompete il filetto, mi raccomando, controllate, pressate bene e poi avvitate, non abbiate fretta. Ecco qui. Vedrete che avete un po' di gioco questo. Questo è dato da quello scasso che vi ho fatto vedere all'interno prima. Ovviamente hanno lasciato un po' di tolleranza e quindi si crea questo gioco. però io direi che sono più che soddisfatto, guardate. Va benissimo. Ecco qua. E beh. È davvero bello. Bene, il montaggio è terminato. Adesso metto pausa e ci vediamo dopo. Ecco qua, ragazzi. Questo è quello che abbiamo montato fino a questa uscita, la numero 16. e io, ancora una volta, devo dire che sono molto soddisfatto. Guardate le dita, completamente mobili, tutte le falange. Qui abbiamo questo pezzo che poi, grazie alla sua calamita, si può togliere facilmente per andare a mettere poi quell'inserto dove c'è lo spuntone di metallo qui davanti. Vi ricordate? Ecco qui. Qui poi ci va ancora una copertura. qui è tutto gomma, gomma, metallo, la copertura in plastica. Questo è metallo, così come il metallo ha anche questa parte sotto, e qui la copertura in plastica. Ha il suo peso, ha il suo peso, ve lo garantisco. Piede destro. Bellissimo. E questo è quello che abbiamo montato adesso. Il polpaccio. Eccolo qui. Polpaccio sinistro. Prende sempre più corpo il torace. Queste due parti sono in metallo e queste che vedete sopra più alte sono in plastica. Eccolo qui. Ed ecco qua il casco. Tenuto nella sua sede grazie a una calamita molto potente. Eccola qui. Qui poi ci sarà il volto di Alex Murphy in lattice. Sarà una riproduzione pari a quello vero. Non vedo l'ora di vederlo. Ecco qua. Bene. Il video termina qui. Michele vi saluta. Vi ringrazio del vostro tempo. Grazie ragazzi. Grazie di continuare ad essere l'infa del mio canale. Grazie con tutto il mio cuore. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando non mancate perché adesso vado a preparare i prossimi video. Ciao. Ciao. Ciao.